Ieri pomeriggio la motovedetta CP311 della Guardia Costiera ha soccorso a circa 40 miglia dalla costa una barca vera con circa 85 migranti arrivati nel porto delle Grazie alle 15.30. Il tempo di organizzare i soccorsi e le operazioni d'identificazione che già questa notte la stessa motovedetta, la CP311, ha soccorso un altro centinaio di migranti irregolari che viaggiavano a largo della costa ionica calabrese. La motovedetta è giunta col buio alle 6 di questa mattina al porto delle Grazie roccellese con a bordo altri 106 migranti iraniani. Si tratta di nuclei familiari con la presenza anche di una donna non vedente. Al momento si attende l'arrivo di altri 100 migranti di qui a qualche ora. La macchina dei volontari del soccorso è davvero allo stremo. Al di là delle forze di polizia e delle autorità titolate, ricordiamo che l'assistenza e la gestione degli sbarchi è pressoché sulle spalle dei volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile Comunale che gestiscono assistenza e gestione della tensostruttura ormai abilitata a contenere 300 persone circa. Volontari che, vista la cadenza giornaliera degli arrivi, sono allo stremo. Un fenomeno che qualcuno considera eccezionale ma che è diventato certamente un qualcosa di ordinario.